Vediamo ora le formule, cioè le espressioni matematiche che assume l'energia potenziale per le diverse forze conservative. Abbiamo già detto che la forza peso, cioè la forza di gravità, si dimostra che è conservativa e già conosciamo qual è l'espressione della sua energia potenziale. L'energia potenziale gravitazionale, mgh, massa dell'oggetto, accelerazione di gravità o campo di gravità e h è la quota all'altezza a cui si trova l'oggetto. Però attenzione che questa formula vale soltanto nelle immediate vicinanze della superficie terrestre. Immediate vicinanze vuol dire che la quota, l'altezza sopra la superficie deve essere molto piccola rispetto al raggio della Terra. Il raggio della Terra è circa 6.400 km, quindi per alcune decine di chilometri ancora questa formula può essere accettabile. Per 10-20 km sicuramente va bene. Ma se noi andiamo più lontano dalla Terra, questa è la Terra, andiamo per esempio qua, non possiamo più usare questa formula perché questa è una formula approssimata, approssimativa. La formula esatta invece è questa, la formula dell'energia potenziale gravitazionale. meno g, g è la costante di gravitazione universale, m è la massa della Terra, m è la massa dell'oggetto, per esempio un sasso, e r è la distanza tra il centro della Terra e la massa m piccola. Attenzione a non sbagliare, come spesso fanno gli studenti, che r non è la distanza dalla superficie. invece h era la distanza dalla superficie, h in questa formula approssimativa è la quota sopra la superficie, qui invece no, r è la distanza dal centro della Terra fino alla massa m piccola. Infatti la Terra, si può dimostrare, si chiama teorema di Newton, che si comporta come se fosse un punto, quindi tutta la massa concentrata nel centro, nel senso che il campo gravitazionale che la Terra genera fuori di lei è lo stesso che si avrebbe se la Terra fosse con tutta la massa concentrata al centro. Questa funzione energia potenziale è essenzialmente un iperbole, un ramo di iperbole con il segno negativo, quindi è questa qui la funzione energia potenziale. Se noi andiamo a considerare quel tratto di iperbole che si trova appena oltre il raggio terrestre, quindi nelle immediate vicinanze della superficie terrestre, quindi in questo breve tratto qui, in questo breve tratto, quindi appena sopra la superficie terrestre, allora possiamo approssimare questo tratto di iperbole come se fosse un segmento rettilineo. E questo è MGH. In pratica, MGH, questa energia potenziale che cresce con la quota, è l'approssimazione lineare di un tratto di iperbole. Questa è la superficie terrestre, qui ci stiamo sollevando di un tratto H e, sollevandosi verso destra di un tratto H, cresce l'energia potenziale in modo lineare, in realtà non è lineare, è l'approssimazione lineare di questo tratto curvo di iperbole. In elettrostatica noi non utilizzeremo mai questa approssimazione qui, perché noi non lavoreremo praticamente mai soltanto nelle immediate vicinanze di una carica elettrica. Adesso immaginiamo che questa non sia più la Terra, ma sia per esempio una sfera metallica carica di elettricità. Noi non lavoreremo soltanto qui, lavoreremo anche a grandi distanze, quindi dovremmo usare una formula analoga a questa. Ricordiamo infatti l'analogia tra la gravitazione e l'elettrostatica. La forza di gravità, la legge di Newton della gravitazione universale, è praticamente uguale alla legge di Coulomb dell'elettrostatica. G, la costante di gravità universale, viene sostituita dalla costante dell'elettrostatica K0. Le masse vengono rimpiazzate dalle cariche e poi R al quadrato rimane la distanza al quadrato dal centro. Allora, in virtù di questa analogia, anche la forza elettrostatica innanzitutto è conservativa come la forza di gravità e l'espressione dell'energia potenziale elettrostatica è identica a quella dell'energia potenziale gravitazionale. Quindi G diventa K0, le masse diventano le cariche e R è la distanza dal centro. Il segno meno non c'è perché è già nascosto dentro le cariche stesse. Infatti, a differenza delle masse che possono essere solo positive, le cariche possono essere anche negative. Siccome le masse sono solo positive, per avere una forza attrattiva in pratica bisogna mettere il segno meno esplicito davanti. Invece, nel caso delle cariche, l'attrazione si ha quando le due cariche hanno segni discordi, quindi una è positiva e una è negativa. Ma allora il segno meno ci viene naturale perché una è positiva e una è negativa, quindi il segno meno è già nascosto dentro una di queste due. Se invece le due cariche sono concordi, quindi tutte e due positive o tutte e due negative, il segno meno giustamente non c'è, neanche nascosto qua dentro, e infatti la forza in questo caso è repulsiva. Quindi l'energia potenziale elettrostatica sarà un ramo di perbole ma nella parte superiore. Che la forza elettrostatica sia conservativa si può dimostrare in modo rigoroso. E dalla dimostrazione viene anche fuori la formula dell'energia potenziale elettrostatica che abbiamo appena visto, K0, le due cariche, diviso la distanza tra di loro. La dimostrazione non la vediamo nel dettaglio ma essenzialmente consiste nel calcolo del lavoro che fa la forza elettrica quando una carica, questa carica Q minuscola, si sposta da un punto A a un punto B all'interno del campo elettrico, quindi sotto l'azione della forza elettrica generata dalla carica Q grande. Infatti mentre questa carica Q piccola si sposta lungo questo tragitto AB, subisce continuamente questa forza elettrica che è rappresentata da questa freccia di colore rosso. Facendo il calcolo del lavoro che questa forza elettrica esercita sulla carica Q piccola, mentre la carica si sposta da AB, viene fuori matematicamente che il percorso non conta, cioè non è importante. C'è nella formula finale che è questa, viene fuori che non c'è nessuna traccia, memoria diciamo del percorso, il percorso non conta niente. Contano invece queste espressioni che è proprio l'energia potenziale in A meno l'energia potenziale in B, quindi viene proprio dal calcolo del lavoro la differenza tra l'energia potenziale in A, UA, meno l'energia potenziale in B, UB. E quindi viene anche in modo naturale, dalla dimostrazione, l'espressione dell'energia potenziale elettrostatica, che è proprio questa, KQQ fratto R. Il fatto che nell'espressione finale del calcolo del lavoro non sia venuto fuori nessuna indicazione legata al percorso, vuol dire che qualunque percorso scegliamo, il lavoro ha sempre lo stesso valore, a parità naturalmente dei punti AB, cioè senza cambiare i punti AB. Quindi se scegliessimo un altro percorso, il lavoro della forza elettrica sarebbe lo stesso, come indicato in queste figure. Qui, per andare da AB, abbiamo fatto fare alla carica Q minuscolo il percorso 1, ABC, oppure il percorso 2, ADC. E in entrambi i casi il lavoro che fa la forza elettrica su questa carica che si muove è sempre lo stesso, per esempio 10 J. Questa è proprio la prima definizione di forza conservativa. Il lavoro non dipende dal percorso. Il lavoro lungo il percorso 1, ABC, è uguale al lavoro lungo il percorso 2, ADC. Ma si vede che vale anche l'altra definizione, che è equivalente alla prima, l'altra definizione di forza conservativa, cioè il lavoro ciclico è 0. Infatti, se immaginiamo di rovesciare il percorso 2 e quindi di percorrerlo non da A a C, ma da C verso A, abbiamo un percorso totale, che è un percorso chiuso, un percorso ciclico. Dove la forza elettrica che agisce su questa carica fa 10 J di lavoro motore all'andata e meno 10 J di lavoro resistente al ritorno. Se li sommiamo fa 0. Eccolo qua il lavoro ciclico uguale a 0. Questo è spiegato e dimostrato più in dettaglio in questa figura, dove si vede la carica sorgente, la carica Q grande, e la carica Q piccolo, che fa questo percorso ABC e poi ritorna indietro CDA lungo il percorso 2. E qui è disegnata con la freccia rossa la forza elettrostatica sulla carica in alcune posizioni, quindi quando sta qui, quando sta qui e qui. Con le frecce verdi sono disegnate le linee del campo elettrico generato dalla carica sorgente e sono naturalmente linee radiali, perché sappiamo che una carica puntiforme genera linee che vanno come i raggi. E qua con le frecce blu sono disegnati gli spostamenti infinitesimi, quindi un piccolo spostamento della carica che avviene lungo il percorso chiuso. Comunque alla fine il concetto fondamentale è che durante il viaggio d'andata questa forza si vede che spinge la carica verso l'esterno perché è una forza repulsiva, cariche positive si respingono, quindi la forza fa un lavoro motore all'inizio perché respinge la carica viola Q piccolo. La carica viola si allontana e la forza la respinge, invece a ritorno la forza fa un lavoro resistente perché la carica viola si avvicina ma la forza di nuovo è repulsiva. Quindi in questo caso si tratta di un lavoro resistente con cui la forza cerca di ostacolare l'avvicinamento della carica viola. Naturalmente non è spontaneo questo percorso che descrive la carica Q minuscola, ma è un percorso forzato anche da altre forze esterne, quindi non c'è soltanto la forza elettrostatica, altrimenti non farebbe questo percorso spontaneamente la carica viola. Evidentemente ci sono anche altre forze, per esempio noi che banalmente abbiamo un meccanismo con cui prendiamo la carica e la spostiamo a nostro piacimento lungo questo percorso chiuso. Esercitando quindi una nostra forza esterna. Un'ultima osservazione, prima abbiamo detto che se una forza è conservativa, il lavoro dipende soltanto dai punti di partenza e d'arrivo tra cui si sposta l'oggetto e quindi esiste l'energia potenziale, poi elettrostatica nel caso particolare della forza elettrica, comunque esiste l'energia potenziale che con le sue differenze, valore in A meno valore in B ci dà il lavoro. Giustamente in questa formula non c'è traccia del percorso, cioè non c'è nessuna indicazione, infatti il percorso non conta. Invece per le forze non conservative, come queste, il percorso è importante perché il lavoro di queste forze qua dipende sì dal punto iniziale e dal punto finale, ma dipende anche dal percorso scelto. Quindi una formula così non può funzionare per le forze non conservative perché non c'è l'indicazione del percorso e il percorso è importante per le forze non conservative, quindi una formula così sicuramente non può andar bene perché non tiene conto del percorso, non specifica il percorso. In altre parole per le forze conservative non esiste e non può esistere una funzione energia potenziale che semplicemente dia il lavoro attraverso le sue differenze. Quindi l'energia potenziale è una cosa che esiste soltanto per le forze conservative. Le forze non conservative non hanno proprio l'energia potenziale, non è proprio possibile definirla.